Una donna di 49 anni questa mattina è stata ricoverata alla Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Aveva tutti i sintomi della meningite. I sanitari hanno proceduto alle prime cure del caso, poi la diagnosi è stata confermata. La paziente è affetta da meningite, pertanto è stata isolata nel reparto di medicina e, come previsto dalla procedura, inizierà la profilassi delle cure per tutti coloro che sono stati a contatto con la paziente.